Ciao a tutti ragazzi, oggi come volete vedere parliamo della linea agile di Ferrino, qui abbiamo il modello da 25 da 35 litri, esiste anche il modello da 45 litri e il modello da 33 litri pensato con le forme da donna. Questo modello di zaino è stato presentato l'anno scorso da Ferrino e nel particolare si pone come zaino per il light backpacking. Vedremo che è uno zaino che va bene un po' per tutto, partendo dalle escursioni, alle ferrate, all'alpinismo e via dicendo. Ma iniziamo subito con la recensione, in particolare vi parlerò del modello da 35 litri che è quello che sono riuscito a testare per maggior tempo ed è la via di mezzo tra i tre modelli presentati. Dunque eccoci qua con il modello da 35 litri, parliamo di uno zaino che sta sotto il chilo, nell'esattezza pesa 950 grammi quindi ottimo perché se pensiamo di utilizzare questo zaino anche per trekking magari di qualche giorno in giro per le nostre Alpi riuscire a ridurre il peso già dallo zaino e avere uno zaino sotto il chilo può fare la differenza tra un trekking ben riuscito oppure che torniamo a casa con mal di schiena. Però, ragionamento a parte, partiamo subito con la recensione di questo zaino, partendo da quello che troviamo esternamente. Troviamo delle retine in cui poter andare ad alloggiare una borraccia. Queste retine mi sono piaciute anche se le avrei fatte un pochino più elastiche in quanto quando lo zaino è proprio bello pieno pieno si fa un po' fatica andare ad aprirle e inserire dentro la borraccia. Forse sarebbe passato giusto un pelino di materiali in più, un pochino più elastiche e sarebbe andato bene. Comunque si utilizzano, non è che si abbiano particolari problemi. Idem per quanto riguarda la tasca frontale, io qua sono andato a riporre un secondo strato e anche una cartina quando ne ho bisogno e anche qui si riesce a utilizzare bene. Fosse stata ancora un pochino più elasticizzata, un pochino più di materiale, sarebbe riuscita a sfruttare decisamente meglio. Però, comunque la si sfrutta, ecco. Esternamente cosa troviamo? Troviamo due portabastoncini che li abbiamo separati, uno da una parte e uno dall'altra e questo va benissimo anche per poter portare due piccozze o due bastoncini da una parte e la piccozza dall'altro. È veramente versatile questo zaino. Inoltre, grazie a questi aggancini, troviamo la possibilità di aggiungere l'elmet holder per l'elmetto e tramite le fettucce che ci vengono date in dotazione, nello zaino, possiamo andare a caricare altro materiale all'esterno come ciaspole o magari tenda o materassino. Quindi questa è la parte esterna dello zaino. Parlando della parte superiore, troviamo una tasca con doppia cerniera, molto semplice. All'interno troviamo un portachiavi e le fettucce, come dicevo, date in dotazione. Ci sta abbastanza roba, classico, di tutti gli zaini di questo litraggio. Troviamo all'interno la presenza della doppia tasca per poter inserire una vescica tipo camelback con un passaggio qui per far uscire fuori la nostra vescica e delle fettucce dove andare a fissarla. Troviamo inoltre l'attacco pettorale per andare a scaricare un po' di peso sul petto e questo è regolabile in altezza. E allo stesso modo dentro la nostra clip con quale chiudere l'attacco pettorale troviamo anche un fischietto che fa abbastanza rumore se fischiamo forte. Però veniamo alla parte più interessante di questo zaino, ovvero lo schienale. Questo sistema brevettato da ferrino chiamato hollowback system che è un sistema a metà tra l'ergonomico e quello a rete. Come volete vedere abbiamo sia la rete che l'ergonomico. Non è regolabile in altezza, quindi quando andiamo a acquistare lo zaino guardiamo bene se va bene per la nostra altezza o meno. E vi dico la verità, sia la parte della cinghia lombare che lo zaino danno un'ottima traspirabilità. Io l'ho utilizzato tutta l'estate con temperature molto alte. Sì, naturalmente un po' si suda, ma tutto sotto controllo. Anzi, forse ho sudato un pochino meno rispetto che ad altri zaini. Quindi mi è piaciuto veramente veramente tanto. E allo stesso modo, essendo tutto bene così integrato, lo scarico del peso è molto molto buono. Io ho portato questo zaino con diversi chili, dagli 8 ai 13 più o meno. E ho notato che fino a 10 chili lo zaino scarica molto molto bene. Sopra iniziamo a sentire il peso dello zaino in maniera anche molto prepotente. Quindi è uno zaino, secondo me, dove 10 chili è la soglia massima di quello che possiamo portare. Sempre sulla cinghia lombare troviamo anche sia da una parte che dall'altra queste taschine fatte a rete, dove ci sta dentro benissimo uno smartphone. Essendo anche un po' impermeabili, riusciamo a inserire un po' di roba. Ci sono fatte bene anche quelle, ci sta abbastanza roba sulla fascia lombare, dove ricordiamo non sentiamo peso. Ma perché mi piace così tanto questo zaino? Innanzitutto, vabbè, il colore è molto bello. E già questo per me è sempre un ottimo aspetto positivo. E per quanto riguarda il suo utilizzo, io posso utilizzarlo, soprattutto questa versione da 35 litri, per farci magari dei trekking giornalieri con un po' di materiale in più. Posso utilizzarlo per farci dei trekking da rifugio a rifugio, perché il 35 litri è perfetto. Posso utilizzarlo per farci delle escursioni su vie ferrate, perché ho modo di poter riporre tutto dentro. Ed avendo questa forma molto affusolata, sta molto bene a contatto con la schiena. E non va a sporgere, quindi ne evito di incastrarmi da qualche parte. Va bene per farci delle gite di sci alpinismo-alpinismo, perché ho la possibilità di poter portare la piccozza e il casco con la helmet holder. Quindi è uno zaino veramente multifunzionale, che va bene un po' per tutto. Perciò in conclusione vi consiglio questo zaino, sì, molto, a me è piaciuto. E lo consiglio soprattutto a quelle persone che magari stanno cercando uno zaino d'alto livello, venendo da uno zaino invece base di gamma, magari da qualche zaino low cost, che vogliono fare questa spesa di 90-100 euro per prendersi questo tipo di zaino, ma vogliono uno zaino da poter utilizzare in tanti ambiti. Non a dover comprare uno zaino per ogni singola attività che andiamo a fare in montagna. Questo zaino, essendo plurivalente, ci permette di fare una spesa e poterla utilizzare, come dicevo, in tanti ambiti. Quindi sì, super consigliato. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!